Debutta ad Alta Roma primavera estate, 2012 Marta Ferri, figlia di Fabrizio Ferri e dell'interior decorator Barbara Frua, da sempre innamorata delle stoffe che reputa l'anima di tutto, soprattutto quelle d'arredamento che ricerca continuamente e che trova in bellissimi pesi. E la ricerca di ogni pezzo diventa il motivo ispiratore della sua prima collezione, fatta con tessuti focioni, pizzi dal sapore antico, velluti stretch e affascinanti ecoperilice, che mescolandosi creano abiti classici e innovativi. I materiali accostati con naturalezza spontanea rendono la collezione sorprendente, come nei tubini di uno chic assoluto, le ampie e divertenti gonnellone sopra i corti shorts e le giacche dal taglio a kimono.